Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Mi viene troppo da ridere C'avete presente quella carta che vi dicevo Ehi, potrebbe svoltare il deck di Jackatlas Ma ancora non si sa quale è Eccola, c'è Eccola qui Mi viene troppo da ridere Perché non faccio tempo a fare un video Che devo fare il video aggiornamento per il video Nella carta che... Vabbè, lasciamo perdere Prima di iniziare, come sempre, ragazzi, mi invito a iscrivervi Per il nostro canale, per vedere sempre, aggiornate con Mondodio Che mi raccomando, è importantissimo Grazie mille, mi raccomando, vi guardo E andiamo a vedere quest'ultima carta Se volete c'è anche il link Fantasia Store per preordinare Il mazzo al costo più basso possibile L'ultima magia di Jack Allora, come avevamo predetto Una carta magia continua Crimson e Gaia Crimson Gaia, perché Hell non va bene Durante la One Face Prima, secondo e terzo effetto Una volta per turno, durante la One Face Possiamo aggiungere un Arciniamo il Drago Rosso E una carta che lo menziona Eccetto Crimson Gaia Dal deck O cimitero alla mano Infatti già stavo facendo cosa Come Arciniamo il Drago Rosso dal deck Ok Quando un nostro Arciniamo il Drago Rosso Dichiaro un attacco Possiamo cambiare tutta la posizione Del mostri dell'avversario Coperta in posizione di difesa Il che può essere interessante Anche se comunque L'Arciniamo il Drago Rosso Predilige avere mostri in attacco Però, insomma, non è male Perché glieli copri tutti Ed eviti diversi effetti Se non ho più mostri sul terreno Vengono distrutti in battaglia Dall'effetto di una carta Possiamo specializzare Un Arciniamo il Drago Rosso Dal cimitero Ok Una carta che non è per nulla male O che come avevamo detto Prima Cinque minuti fa Sarebbe stato Un addino Che ti permetteva Di prendere carte Che menzionavano Appunto Arciniamo il Drago Rosso Buono che te lo puoi rimettere Anche nell'extra deck Al limite Se ti può servire Un modo per Riciclarti Quel mostro Carta veramente Molto molto figa Nell'artwork è veramente Stupenda Non male L'unica cosa Che vorrei Ci fosse un Boss Monster Di quelli veramente Esagerati Però credo che Age of Overlord Ci dirà Se ci sarà o no E vediamo insomma Che cosa ci dirà Come carta magia Molto molto buona Che insomma Tanto è anche Anche lei è addabile Quindi va bene Perché c'hai I nesonator Che te la danno E quindi Vai tranquillo Detto questo ragazzi Fatemi sapere voi Cosa avrei pensato Ovviamente Ora finché Aspettiamo Che Mettano Le ultime stampe Poi facciamo I soliti Consueti Profile Le solite Consuete Profile E tutto il resto E poi chiudiamo Arciniamo il Drago Rosso Detto questo Fatemi sapere voi Cosa avrei pensato Ovviamente Noi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto a tutti